Se cercate crediti andate su FIFA Coins Buy, un sito economico veloce e sicuro, trovate in descrizione il link più il codice del 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo pack opening, perché come sapete è uscito da un po' di giorni il team of the season della Premier League e anche quello del Football League o qualcosa del genere, comunque i campionati inferiori inglesi. E ci sono questi pacchetti mega da 35.000 crediti, per cui noi li andremo ad aprire, sono qui con l'account della serie di Asar, però vabbè, qui avevo un po' di crediti in più, quindi andiamo direttamente ad aprirli, speriamo di essere fortunati, sono 10 pacchetti, quindi 30 oggetti, 26 oro e 18 orari, quindi speriamo di non trovare solo contratti, bensì ottimi giocatori. Quindi partiamo subito col primo pacchetto, subito comprato, speriamoci le mani perché portava bene, intanto voi lasciate un bel like, potentissimo, e nel primo pacchetto troviamo subito Arbelò, interessante, wow, cominciano bene i pacchetti. Vabbè, comunque andiamo con il secondo, non tutto è perduto, tanto che abbiamo crediti un po' da sprecare. Andiamo con il secondo pack, speriamoci le mani, ma mi sa che funziona solo di mattina, intanto troviamo un pepe, pensavo qualcosa di più, però... Comunque, primi due andati di merda, nel senso che abbiamo buttato un sacco di crediti, andiamo con il terzo pacchetto, lasciate un bel like, un commentino, magari scrivetemi se li avete aperti anche voi, cosa avete trovato. In questo pacchetto troviamo a Deba York, ci sono milioni di giocatori blu, ci sono un sacco di man of the match, quelli delle partite di coppa, delle finali, però noi non troviamo una sega. Andiamo con un altro pacchetto, ne mancano sette, sette con questo, niente, speriamo, 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 Griezmann, che si aspettava usciva sicuramente Team of the Season tra un po', però, vabbè. Nuovo pack, stiamo facendo praticamente la collezione di contratti orrorari e forme fisiche, comunque quelle servono, però a spendere tutto! Wokot, attaccante, porca, completate voi questa frase, madonna, vabbè, l'ho completata io, Wokot attaccante con 97 di velocità, assurdo, andiamo subito a vedere a quanto sta, che merda, come fa a star così poco? Pensavo stesse un po' di più, porca troia, e vabbè. In ogni caso, comunque, Wokot, noi ce lo prendiamo, anzi, ci ha fatto più o meno ripagare quanto ho speso finora, speriamo di trovare qualcosa di meglio, comunque non andare troppo in perdita, perché mi girerebbe un po'... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè, non è mai successa, penso, una cosa simile, nella stessa apertura dei pacchetti, lo stesso giocatore per due volte di fila, cioè, è impossibile, non è mai successo a nessuno, incredibile! Mettiamola nella lista trasferimenti, ragazzi, cioè, se avete mai visto una cosa del genere, fatemelo sapere nei commenti o se vi è capitato a voi, perché a me non è mai capitato, vabbè che a me è già tanto se trovo un giocatore lì. Quindi adesso, andiamo per il terzo Wokot di fila, e quindi facciamo il 3x, andiamo in collezione proprio, vediamo subito chi troviamo... Oh mio Dio! Oh mio Dio! 93! Rated player! Oh mio Dio Sanchez! Tanto mi sono venuti dei cappelli, incredibile! Quanto sta? 600.000! Porco mio donno! Che culo ragazzi, mi sa che mi sto riprendendo, da tutte le infamate che mi sono successe negli scorsi video, da FIFA 12 in poi, forse è svoltata, forse è svoltata... Che stile questo stemma, ragazzi, incredibile! Due IF e un Team of the Season 93 finora, mamma mia! Andiamo con un altro pacchetto, ormai siamo più che ripagati, questi ultimi 3 pacchetti, andiamo a strasciarlo, continuiamo a fare così, perché porta... Benone, vabbè, non tanto adesso, però non ci possiamo assolutamente lamentare. Ultimi 2, in realtà ho ricevuto anche un pacchetto gratis, però quello non so se lo apriremo dopo, alla fine che ne so, diamo in un nuovo pacchetto, troviamo Strothman che non ci interessa assolutamente. Ultimi 2, subito in velocità, perché sennò il video dura troppo e non mi va che duri troppo, nuovo pacchetto, penultimo pacchetto, non mi spreco, troviamo Barzagli, pensavo qualcosa di meglio, ma ripeto, non possiamo assolutamente lamentarci finora, e infine no, no, è finito, non so perché, pensavo ne mancasse uno in più, invece mi sbagliavo. Vabbè, comunque, apriamoci quest'ultimo pacchetto, classici pacchetti riscaldabili regalati, in cui non si trova mai un cazzo, infatti noi troviamo dei micelis. Comunque, ripeto, non possiamo lamentarci, due Wolcott di fila, più un Sanchez93, che, non so, fatemi sapere nei commenti se volete una squadra con Sanchez, e magari pure Wolcott, cioè per fare una squadra proprio devastante, quindi fatemelo sapere nei commenti, prima però arriverà la squadra con Mané Record Breaker, come vi avevo promesso, e poi farò una squadra, penso, con Wolcott e con Sanchez. Comunque, ragazzi, spolliciate perché merita tantissimo, finalmente sto anche io iniziando un po' a trovare gente seria. Lasciate un bel like, 4C2 mi piace, uscirà un nuovo video, commentate scrivendo se avete anche voi aperto dei pacchetti e cosa avete trovato, e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella raga!